Hai mai sognato di immergerti in un luogo dove il relax e la bellezza si fondono in un'armonia perfetta, circondato dalla natura e dalla storia? Le terme di Rimske, un gioiello della Slovenia, offrono esattamente questo. Un'esperienza termale ispirata all'antica Roma, con piscine termali straordinarie, aree dedicate al relax e una storia che affonda le radici nei riti dedicati alle ninfe. In questo video ti porteremo alla scoperta delle Rimske terme, dei suoi servizi e dell'ambiente circostante, esplorando perché questo luogo è considerato un vero paradiso per chi cerca il benessere. Benvenuti nel canale Spunti di Viaggio, grazie per la vostra fiducia e supporto. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi e lasciate un commento per condividere le vostre esperienze. La Slovenia è famosa per le sue terme, sparse in tutta la nazione. Tra le più rinomate ci sono le Rimske terme, un vero gioiello che unisce arte e cura del corpo. Queste terme hanno una storia antica e sono state rinnovate negli ultimi anni per offrire il massimo del comfort. Qui puoi rigenerarti grazie a terme, saune e massaggi, ma anche meditare, mangiare al meglio e vivere un territorio ricco di attrazioni. Il complesso termale e ricettivo delle Rimske terme è frutto di uno studio architettonico che ha unificato due strutture storiche, il Sofijin Dvor e il Zdraviliski Dvor. Nel 2009 è stata costruita una terza struttura, il Rimski Dvor, che ha reso possibile la realizzazione di nuovi spazi. La hall si trova al settimo piano ed è interessante notare che le strutture sono semi-ipogee, affacciandosi su una valle ma posizionate a ridosso del bosco. Il piano dei massaggi e dei trattamenti è al quinto, le terme al quarto e il centro medico al terzo. Le sale termali sono al quarto piano e coprono l'intera superficie del Rimske Hotel. Per accedervi è necessario avere un braccialetto d'ingresso, che ricorda un orologio. Dopo esserti cambiato nell'apposito spogliatoio, dove trovi armadietti e specchi, puoi accedere alle aree delle terme. Le terme sono divise in due aree, la sala delle piscine e quella delle saune. La sala delle piscine è un capolavoro architettonico, che rispetta la storia del sito e combina forme classiche con innovazione tecnologica. L'area centrale è dominata da una piscina rettangolare, con un'illuminazione naturale che crea un'atmosfera solenne. Le scale per accedere alla piscina hanno una profondità di circa 1,30 metri, ideali per immergersi e godere delle correnti di idromassaggio. Rientrando, puoi salire al piano superiore, dedicato al relax, collettini e tre piccole vasche idromassaggio. Puoi anche gustare una tisana al bar, affacciato sul cortile centrale. Le frasi in latino presenti lungo le pareti arricchiscono l'esperienza. Accanto alla sala delle piscine si trova l'area dedicata alle saune, accessibile solo se completamente nudi. Questo spazio, chiamato Paese delle Saune di Varinia, offre diverse opzioni come saune finlandesi e bagni turchi. Al termine del percorso, puoi scegliere trattamenti corporei come i programmi KNIP, massaggi con oli eterici e peeling. Presso il Zdraviliski Dvor puoi anche usufruire di trattamenti termali con acqua pura, priva di cloro. Qui si trovano due vasche storiche, una delle quali in marmo di Carrara, protetta dai beni culturali. Le stanze delle terme sono nominate kapel e offrono un'atmosfera unica per i visitatori. In questo contesto, le terme di Rimske sono perfette per chi cerca relax e bellezza, con strutture moderne che si integrano in un ambiente naturale. La clientela ideale per questo posto comprende coppie in cerca di un rifugio romantico, famiglie e chiunque desideri un'esperienza di benessere. I prezzi per accedere alle terme variano a seconda dei trattamenti e dei pacchetti scelti, ma generalmente sono accessibili e riflettono la qualità dei servizi offerti. Per raggiungere le terme di Rimske, puoi utilizzare i mezzi pubblici o l'auto, godendo di un viaggio panoramico attraverso la bellissima Slovenia. Dopo aver esplorato le meraviglie delle Rimske terme, ci sono molte attrazioni nelle vicinanze che meritano una visita. Iniziamo con la storica città di Lasco, famosa per la sua birra e le sue tradizioni culturali. Qui puoi visitare il Castello di Lasco, che offre una vista panoramica sulla valle. Non lontano si trova anche la bellissima chiesa di San Giovanni Battista, con la sua architettura affascinante. Un altro luogo da non perdere è il Parco Nazionale del Tricorno, un vero paradiso per gegli amanti della natura. Qui puoi fare escursioni, passeggiate e immergerti nella bellezza della flora e fauna locali. Inoltre, la città di Ceglie, con il suo castello medievale, offre un viaggio nel tempo e una vista mozzafiato sulla regione. Non dimenticare di visitare anche i mercatini locali, dove puoi assaporare prodotti tipici e artigianato sloveno. Queste attrazioni, insieme alle terme di Rimske, rendono la Slovenia un luogo ideale per una fuga rilassante e rigenerante. Durante l'inverno, le terme di Rimske e i suoi dintorni offrono una serie di eventi e spettacoli da non perdere. Le festività natalizie portano con sé mercatini caratteristici, dove puoi trovare regali artigianali e gustare prelibatezze locali. Inoltre, molte strutture organizzano serate a tema e spettacoli di intrattenimento, creando un'atmosfera festosa e accogliente. Un evento annuale da segnalare è il Festival della Birra e dei Fiori di Lasco, dove si possono ammirare concerti, spettacoli di danza e performance artistiche. Anche nei mesi invernali, le terme offrono pacchetti speciali con trattamenti benessere, ideali per rigenerarsi dopo una giornata passata a esplorare. Le escursioni sulla neve sono un'altra attrazione popolare, con sentieri segnalati per tutti i livelli di esperienza. Questi eventi invernali, uniti al relax delle terme di Rimske, creano un'esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. La gastronomia slovena è un altro aspetto da scoprire durante la tua visita alle terme di Rimske. Nei ristoranti delle terme e nelle vicinanze, puoi gustare piatti tipici preparati con ingredienti freschi e locali. Non perdere l'occasione di assaporare i tradizionali strucli, un tipo di pasta ripiena che può essere dolce o salata. Le carni affumicate e i salumi sono altre specialità da provare, spesso accompagnati da vini locali di alta qualità. Inoltre, le Rimske terme offrono menu salutari e bilanciati, ideali per chi cerca un'alimentazione sana durante il soggiorno. Il Ristorante delle terme, situato al sesto piano, offre una vista spettacolare sulla valle, rendendo ogni pasto un'esperienza unica. Ogni piatto è preparato con cura, riflettendo la tradizione culinaria slovena e la passione per il buon cibo. In conclusione, le terme di Rimske non sono solo un luogo di relax, ma anche un'opportunità per immergersi nella cultura e nella gastronomia slovena. In questo video abbiamo esplorato il paradiso delle terme di Rimske in Slovenia, un luogo dove la storia e il benessere si incontrano, creando un'esperienza indimenticabile. Se stai cercando una fuga per il tuo corpo e la tua mente, le Rimske terme sono la scelta perfetta. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale Spunti di Viaggio per ulteriori avventure e scoperte. Ti aspettiamo nel prossimo video!